Nelle immagini il manager, che si trova a Baku, la capitale dell'Azerbaijon dove si terrà la gara di Formula 1 di questo fine settimana, si è immortalato insieme a dei medici. Nel dettaglio, l'ex marito di Hera insieme allo staff sanitario dell'organizzazione della gara, dunque da queste immagini è presto esplosa la notizia di un malore. Alessandro Rosica ha parlato di complicanze per il manager, senza però specificare troppi dettagli, trasportato in ospedale per delle complicanze. Attualmente si trova a Baku. Mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione all'imprenditore. Attendiamo ulteriori informazioni sulla sua salute, sembrerebbe essere stabile al momento. Rompe il silenzio dopo il malore. Il commento di Nun si conosce nel dettaglio il motivo che ha portato a richiedere l'intervento del personale sanitario ma ora che ha rotto il silenzio sui social si capisce che con molta probabilità non è stato necessario neanche il ricovero in ospedale, ma solo una visita da parte dei medici del circuito di Baku. Nel post il manager specifica infatti che sta bene. Ha pubblicato sul suo Instagram una fotografia insieme a Stefano Domenicali in attesa delle qualifiche del Gran Premio di sabato. Sotto allo scatto, una breve didascalia anche in inglese per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Ha fatto sapere che si è rimesso del tutto, volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande, dopo la piccola defailance di ieri. Leggi anche Sotto al post di tanti, tantissimi commenti E salta subito all'occhio quello di La ex moglie e mamma di suo figlio Nathan Falco non ha scritto nulla, si è limitata a commentare con delle monda, ovvero un braccio che indica forza e una faccina con gli occhi a cuoricino. Non è un mistero che i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione e si frequentano spesso Ma nessun ritorno di fiamma nonostante i fan ci sperino ogni volta che si riuniscono Grazie. Grazie. Grazie a tutti.